Sono aperte le iscrizioni al primo corso gratuito di rianimazione cardiopulmonare e soccorso salvavita per arresto cardiaco in età pediatrica promossi dall'Associazione di Volontariato Givi. Il corso di primo soccorso si terrà il 10 marzo presso l'Hotel San Luca di Batipaia ed è aperto a tutti. Per informazioni consultare il sito associazionegivi.it o scrivere a info at associazionegivi.it. Infoline 0828 30 43 32